e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Eh? Dello Stato. Quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano?